44 gol subiti in 22 partite sono tanti e Sabatini sta cercando di rimediare i dati indecorosi della Salernitana, almeno a livello difensivo. Ecco per cui il direttore vuol rinforzare questo reparto e dopo l'arrivo di Pierozzi e Zanoli ecco che oggi in città è atteso il colpo di mercato che fa sognare i tifosi, ovvero Jerome Boateng. Il 35enne tedesco sbarcherà oggi nella città costiera e nel pomeriggio potrebbe incontrare anche i suoi nuovi compagni di squadra e iniziare subito gli allenamenti per la sua nuova avventura italiana. Sei mesi di inattività però sono tanti per il calciatore ex Bayern Monaco e campione del mondo e bisognerà da subito valutare i tempi di recupero necessari per poterlo vedere in campo. In casa Salernitana c'è ottimismo circa la condizione fisica del calciatore e al tempo stesso viene valutato più l'impatto emotivo sul gruppo nell'avere un calciatore di tale esperienza a guidare tutti verso la salvezza. L'accordo è stato raggiunto nella giornata di lunedì per Boateng ed è stato pensato uno stipendio da circa 500 mila euro fino al termine della stagione. Una cifra sicuramente elevata per le casse della Salernitana ma che considerando il profilo acquistato è plausibile. Soldi recuperati grazie alle cessioni di Lovato al Torino e da Niluic alla Red Bull Salisburgo. In sordine è arrivato un nuovo colpo di mercato da Lofi Creta, ovvero Pasalidis, difensore 27enne, arrivato in città questa notte. Una virata improvvisa visti i continui no da parte dell'Atalanta per la cessione di Palomino con i club Granate interessata a lui. Il difensore classe 1996 è nata a Cordelio in Grecia. Cresciuto con la maglia delle Giniacos, il centrale in questa stagione ha totalizzato 13 presenze fra campionata e Coppa di Grecia in 24 ore. Doppio rinforzo difensivo per la Salernitana.